Ma adesso diamo il benvenuto sul viaggio alla campionessa nazionale Lara Maki-Guttman, Lara seguita da Gabriele Minchio. Triple flip do Petolup. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, parliamo prima, velocemente, però visto che è un piccolo neo, facciamolo velocemente. Allora, il doppio, il doppio Lutz, purtroppo anche per lei l'errore di eseguire il salto triplo obbligatorio, solamente doppio, per cui il PDF avrà un elemento completamente a zero, quindi le mancherà un salto, ma la qualità, il programma, io l'ho seguito completamente rapito dall'inizio alla fine. Sì, è vero, veramente, ha creato una magia. Il doppio Lutz che, come ricordiamo, gli elementi sono o il doppio triplo axle, un salto triplo obbligatorio, poi una combinazione di o due salti tripli o un doppio, un triplo o un triplo, un doppio ovviamente, più le tre trottole che stiamo vedendo, e poi la sequenza di passi, questa in particolare è la combinata perché nella stessa trottola, anche con il cambio di piede, presenta tutte le posizioni base delle trottole, qui lì, quella in piedi, quella ad angelo e quella seduta. Sì, per lei purtroppo, ovviamente, anche per lei ci sarà questa casella che noi vediamo insieme a voi, 59,14, 27,68 nel tecnico, 31,46 però ovviamente nei components che sono fino a questo momento i components più alti. Io penso che sia giusto così un 7,75.